che cosa ha fatto? ahahah ahahah guarda! mi trovo! ahahahahah oh mamma, mi sto prendendo santo figa come? spesi il labbra ahahah oh dio vensì Vensì restare mettere-, dovовал te lo vengo io? ti fa bene vengo io? Vendosti del primo piano mi sanguina il labbro cosa mi sanguina? Il labbro Sotto? Dentro? Dentro, dentro Guarda lì Ma cazzo che vignato mi hai tirato No, no, no Guarda lì Doviamo venire io? Vieni, vieni, merda Stavo in pausa